Francesco, per 10 secondi non hai fatto il personale? Ma, il personale con questa gara di un minuto, il quarto infatti, conferma il quarto, primo italiano, meglio che niente, dai! Hai avuto difficoltà e se sì dove? Sì, ho avuto difficoltà lungo la gara rispetto all'anno scorso perché è stata una gara, corso sempre insieme al Makrut, che penso che stia arrivando, è molto a scatti, abbiamo corso sempre da soli a scatti, a strappi, non si riusciva a correre in modo regolare e io questo l'ho partito tantissimo, però nonostante tutto ho fatto un buon tempo, non mi posso lamentare anche, il piazzamento quarto non è male perché il livello oggi è molto alto, C'era vento, c'era anche tanto vento a ritorno che a me dà un fastidio terribile, a tutti, ma a me in modo particolare, infatti ho anche un po' di mal di pancia, ho potuto tirare un po' i remi in bacca negli ultimi chilometri che di solito sono quelli in cui riesco a spieghermi meglio. Hai dovuto limitare i danni insomma? Ho dovuto limitare i danni, diciamo che sono riuscito anche a raccoglierne un paio negli ultimi chilometri, questo mi ha dato un po' di motivazione, quasi quasi ci credevo di fare il terzo, nel senso che a un certo punto con un bel colpo di fortuna magari ce l'avrei anche fatta, adesso non so quanto fossero distaccati ma un pochino ci speravo alla fine, ammetto.